Nuove opportunità per le imprese marchigiane arrivano dai fondi europei a cui poter attingere per avviare una svolta green e tecnologica della nostra economia. Un incontro nella Baia di Porto Novo organizzato dalla Regione Marche per tracciare il punto sulla situazione del programma operativo regionale 2014-2020. Al centro il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, messo a disposizione dall'Europa per aiutare imprese, infrastrutture, trasporti e innovazione. L'incontro non è stato solo occasione per fare un bilancio degli investimenti che hanno finora riguardato le marche, ma è stato anche aperto un tavolo per discutere sui prossimi fondi in arrivo nella Regione. Le marche avranno infatti nei prossimi anni a disposizione tramite i fondi comunitari europei oltre un miliardo di euro, una cifra ben più alta della precedente programmazione che ammontava 625 milioni di euro. Non ci fermiamo a fare un punto su quello che è stato, ma stiamo lavorando sulla programmazione degli interventi da qui ai prossimi sette anni. I prossimi sette anni che vedranno la Regione Marche beneficiaria di una cospicua fonte di finanziamenti. Stiamo parlando complessivamente, se escludiamo il settore dell'agricoltura, di 1 miliardo e 200 milioni di euro, a cui si andranno a aggiungere le risorse dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e del Fondo Sviluppo e Coesione, che è un altro fondo nazionale. Quindi capiamo bene qual è lo sforzo che ci vede impegnati, però siamo molto soddisfatti di questo rapporto che abbiamo instaurato sia con la Commissione europea che con il livello nazionale. Tra gli obiettivi che la Regione punta a voler raggiungere grazie ai fondi europei nel periodo 2021-2027, troviamo investimenti per rendere il territorio più intelligente, tramite la promozione di una trasformazione economica innovativa, più verde, mediante la transizione verso un'energia più pulita. Ma non solo, si cercherà di rendere il territorio più connesso con il rafforzamento della connettività regionale, più sociale, con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e più vicino ai cittadini, con la promozione dello sviluppo sostenibile. A me sembra che gli obiettivi presenti della Commissione, un'economia sostenibile digitale, attenzione per l'ambiente, connessione sociale, sono tutti importanti per le marche. I ultimi anni erano con tante sfide a causa delle tramotte, la pandemia, ma penso proprio che gli obiettivi della Commissione aiuteranno le marche. Il primo obiettivo specifico dei fondi FESER sono orientati verso la digitalizzazione e la sostenibilità.